Siamo a Quedatino, grande esperto di calcio, uno dei più grandi esperti di Roma Lui vive di calcio e non solo, anche di football Argentina, quindi indica l'Argentina, Di Maria, Messi e tanti altri vinci La Spagna a casuccia, come mai questa Spagna ha perso tutte le due le partite? La fine di un ciclo Ho capito, però la fine è proprio male, peggio dell'Italia Tutti hanno il ciclo e tutti vengono Il ciclo è proprio il giorno a cui si è dimesso, si è abdicato Juan Carlos Allora, tu quindi indichi l'Argentina che vince? Bella l'Argentina, ma piacerebbe Il Brasile? Piacerebbe, purtroppo il Brasile si sta lì Usufruisce di piccoli aiuti che non avrebbe bisogno Potrebbe diventare una squadra perché ha un grosso problema, ha 11 solidari E Germania? 4-0 La Germania potrebbe essere una delle semifinaliste L'Italia? L'Italia dipende da quanto culo ci ha E poi che c'è rimasto? L'Argentina, Brasile, l'Olanda? L'Olanda L'Olanda per adesso è l'unica europea che ha fatto una finale in Sud America Ma ci credo poco Col Brasile proprio, no? No, con l'Argentina nel 78 Ci ha rubato la finale a noi Quante ha perso? 3 finali l'Olanda, no? Sì Nel 74 E non penso che ci sarà una quarta Nel 74, nel 78 e nel 2010 Mi sembra una squadra fantasticamente... No, ma anche nel 74 perso Viene dal monto fantastica, ha perso con la Germania 4 finali 3 finali Scusa, Germania 74 Beh 78 con l'Argentina Beh E niente, nel 2010 con il... non c'è più arrivata Quindi siccome ne fa una consecutiva all'altra potrebbe fare pure questa Francia? Chiunque la fa la perde Francia? La Francia, l'Italia, l'Olanda Sono tutte... potrebbe essere una sorpresa qua in mezzo Ma non convincono E Italia Costa Rica? Italia Coppa Rica In questo momento non c'è che ci fanno a mangiare gelato Ok